L'aurora alto casertano rifila un pocherissimo pesante al pascolino Leonardo di Pietra Melara all'altra retrocessa Nereto in doppio vantaggio dopo soli 5 minuti con Romeo e Maidana. I campani nella ripresa ancora con quest'ultimo insieme a Monteleone e Megara rifilano una sconfitta pesante non nei fini della classifica ma del morale e dell'orgoglio ai vibratiani. Pronti via e arriva subito l'1-0. Ci pensa Romeo a battere Diglio. Il raddoppio è servito al quinto. Questa volta la firma è di Maidana a chiudere quasi virtualmente già la contesa. I rosso-blu provano a rialzare la testa. Boito sgraffigna un pallone a centrocampo e si invola verso la porta di Vitiello senza però riuscire a creare troppi pericoli. I ragazzi di Mister Di Costanzo vogliono mettere in ghiacciaia il match. Finetti ben imbeccato viene fermato solo dal legno. Botte risposta dell'11 di Delgrosso amabile. Dialoga con Boito. Il numero 10 non riesce però a spingere in fondo al sacco il rimpallo vagante da posizione più che ghiotta. Nella ripresa sono sempre le aquile a volare alto. Maidana rapace approfitta dell'incertezza difensiva avversaria e buca per la seconda volta personale e la terza in totale la porta avversaria. Il poker è servito su corner Monteleone il più lesto di tutti a siglare il pesante 4-0. Nel finale è Megara a completare il tabellino dei marcatori e sancire un successo pesante non ai fini della classifica ma del morale per l'aurora alto casertano contro un ereto agli epiloghi in una stagione lunga, complessa e difficile.